Il palonetto morbidissimo di Raffa Leao, mirando avanti con l'uomo del momento, Raffael Leao. Fabi Raghi, il sinistro, teso dentro, Nico Gonzalez, avanti da Fiorentina, 1 a 0. Raffael Leao, dopo 8 minuti nel giorno della sua centesima gara con la maglia rossonera. Gonzales controllo, è la Fiorentina in vantaggio, minuto 29. Quarto gol in campionato per Nico Gonzalez che si ripete dopo il centro con l'Empoli e manda avanti la Fiorentina. Calulù, guarda in mezzo, Calulù, parte il traversone, sbucca Leao, fino ad un vantaggio. Calulù! 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 Grazie a tutti.